Sono giunto alla inverosimile conclusione di essermi innamorato. È stato un vero piacere. Il suo passato arriva fino alla caduta di Singapore e poi niente. La guerra segna per la vita. Non mi prendo, no! La guerra è finita! Non per te, no, Max. Oh, Dio! Con Nicole Kidman e Colin Firth, le due vie del destino. Non possiamo vivere così! Domenica alle 21.20.